it's me mario benvenuti ragazzi al mio canale sono super mario vj e siamo qua oggi come avete letto dal titolo su un incredibile video dove andremo a vedere le skin della marvel le skin che non avete mai visto raga e quindi oltre alla vedova nera e a star lord che sono già uscite nel gioco andiamo a vedere dei concept delle skin della marvel ricreate nel gioco partiamo subito con iron man iron man se non sbaglio è stato il primo film della marvel a essere stato rilasciato chi è che non vorrebbe vedere iron man su fortnite iron man è il personaggio più preferito di molti di noi giocatori e di molti di noi fan della marvel andiamo a vedere come potrebbe essere nel gioco come vedete questo youtuber sincsei ha creato non so se l'ha creato lui ma è un concept di iron man seconda skin che andremo a vedere raga è la skin di spider man ovviamente nel gioco abbiamo già rampino quindi chi ci vuole ad aggiungere questa bellissima skin di spider man il rampino potrebbe volare da un grotto cielo all'altro e come vedete eccolo qua abbiamo la skin di spider man nel gioco gameplay di questa skin e vi ricordo che sono solamente dei concept delle skin modificate di quelle che già abbiamo e l'hanno modificato e guardate quanto è stata fatta realistica e guardate quanto è bella la skin di spider man terza skin che andremo a vedere sarà quella di black panther panthera nera raga chi ha visto il film incredibile quel film se non l'avete visto guardatevelo anche black panther è un mito della marvel e lo guardiamo qua subito come sarebbe questa skin su fortnite è una skin tutta nera è bellissima guardate qua questo è solamente un concept ma non vuol dire che magari in un futuro marvel e fortnite abbiano una collaborazione per aggiungere queste skin che mancano chi è che vorrebbe black panther su fortnite un'altra skin molto bella raga è quella di capitano america come vedete dall'immagine abbiamo capitano america il film che è uno dei film più belli secondo me della marvel nel gioco è già stato introdotto lo shield di capitano america lo scudo che abbiamo nella modalità avengers e quindi secondo me in un futuro possiamo vedere questa skin che qua vediamo solamente un concept magari possiamo vederla nel gioco fatto veramente molto ma molto bene questi sono solamente concept magari in un futuro vengono introdotti e magari no arriviamo infine raga con la skin di thor ma chi vorrebbe la skin di thor raga io vorrei subito la userai subito la skin di thor la comprerei nello shop perché secondo me thor è uno di quelli più forti il divino thor e nella modalità avengers abbiamo già il martello di thor che è stato introdotto solamente per quella modalità ma ora andiamo a vedere un concept di questo fantastico personale in questi concept mancano le skin di occhio di falco e di hulk come potrebbe essere occhio di falco nel gioco abbiamo già l'arco di occhio di falco ma qua vediamo un'immagine di come potrebbe apparire nel gioco questa skin ultimo personaggio della marvel che stiamo qua a citare è doctor strange raga doctor strange che è questo personaggio fantastico e fortissimo guardate lì che passa da uno spazio temporale all'altro viaggia nel tempo come potrebbe essere questo personaggio su fortnite doctor strange ha diversi poteri fantastici ma come potrebbe essere la skin su fortnite ecco qua vediamo un'immagine della skin di fortnite che sembra un mago cioè abbiamo preso la skin di un'altra e abbiamo messo la faccia sotto e infine abbiamo un altro personaggio che non fa parte della marvel che è superman ragazzi come vedete è stato creato questo concept nel gioco di superman è fatto molto ma molto bene chissà se in un futuro vedremo la dc in collaborazione con fortnite per questo video è tutto ragazzi lasciate tantissimi like iscrivetevi e noi ci vediamo con un prossimo video